Dico gli gnocchi perché la parola gnocchi inizia con gn e quindi fa parte del gruppo di nomi maschili con cui dobbiamo usare l'articolo determinativo lo al singolare e gli al plurale, quindi dico lo gnocco, gli gnocchi. Le altre parole maschili con cui dobbiamo usare gli articoli determinativi lo e gli sono i nomi maschili che iniziano con s più consonante, ps, pn, z, x, y e tutti i nomi maschili che iniziano con una vocale.